Penelope, Penelope, eccola qua. Buongiorno, come mi vedete? Splendente? Vorrei mandare a fanculo un po' di gente e invece non posso. Splendido, splendente, come un bisturitaliente. Com'era quella canzone lì che diceva? Splendido, splendente, come sono affascinante. E poi non mi ricordo più niente. Con un bisturitaliente. Come si chiama quella ragazza che canta? Quella ragazza che forse non è più proprio ragazza. Rosy, Rosy? Rosy, splendido, splendente, come sono affascinante. Sento rumori strani, che c'è? Sì, guardate, il caffè Napoli oggi. Oggi il caffè Napoli, va bene. Sarà un po' crollatutto qua. Presto una lunedì, lunedì seguitela sul canale che vi svelerà tutti i segreti dell'amore. Quindi non perdete la puntata di lunedì, Penelo per Wengo. Ho preparato le Sibille dei Saloni. La Sibille del Salone. Le Sibille del Salone. E la troverete su Penelo per Wengo, pagina Instagram. Esatto. Bene, bene. Allora, splendido, splendente. Ci vediamo tutti. A dopo. Grazie a tutti.